Musica 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 Breve uscita per la torretta di Caprona doveva arrivare anche in Verduca non so se il tempo lo permetterà oggi eh Siamo fuori anche in allenamento Siamo anche fuori in allenamento Musica musica を dove stiamo andando? oppure da di qua ah ah è una discarica sei curioso? guarda com'è bello il soffitto un attrezzo di lavoro? boia guarda qui dentro qui dentro si può trovare? un frighetto un frigo? non c'è niente si è un frigo ma poi sono scale è bravo Sherlock si sono scale ah non lo so qua vedo che c'è tanta tanta spazzatura le riviste di Vogue non c'è niente non c'è niente non c'è niente io prendo il libro bellissimo bellissimo purtroppo hanno chiuso tutta Nicosia prima si poteva entrare un pezzettino al monastero era il libro poi il chiostro interno era chiuso poi hanno detto per via dei vandoli hanno chiuso direttamente tutto la fanno solo per la messa sempre per colpa dei vandoli non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente vola più sui le tal e vola più sui le tal e vola più sui le tal Grazie per la visione!